La burrasca è tutt'altro che passata. Per il turismo l'anno che si è appena concluso può essere caratterizzato da un solo colore, il rosso. Oltretutto si tratta del secondo anno di fila con questa tragica realtà. Infatti i dati dell'Osservatorio Nazionale di Federalberghi mostrano che lo scorso anno sono andati in fumo 148 milioni di presenze turistiche. Per fare un raffronto con il 2019, l'ultimo anno prepandemico, è come se si fosse cancellato un pernottamento su tre. Se poi si guardano i soli turisti stranieri, la perdita diventa di uno su due per un totale di 115 milioni di presenze estere perse. Non possiamo pensare che tutto sia passato, ha commentato Luciano Cecchini, presidente di Federalberghi Pesero Urbino, e che tutti abbiano ripreso a viaggiare come prima. Per molti è ancora vietato entrare nel bel paese e anche a causa delle restrizioni, delle norme anticontagio, gli italiani vanno alla scoperta della propria nazione con maggiori difficoltà. Cecchini, ad oggi qual è la situazione? Siamo in una situazione balborda, perché in questo momento tutte le nostre strutture sono non in rosso, ma peggio, perché non è solo la mancanza del lavoro, ma anche le bollette che stanno arrivando, che sono state una catastrofe. Una catastrofe in tutti i sensi, il commerciale non esiste più, rappresentanti non ci sono, perché in questo momento si lavora da casa. Il lavoro che c'è quel lunedì, martedì, mercoledì, di alcuni viaggiatori in qualche albergo, però non ti ripagano le spese. E il periodo di Natale ha risollevato le sorti? Il periodo di Natale, qualche giorno abbiamo avuto degli eventi sportivi, ci ha dato una mano, ma non si può dire una soluzione esatta di avere qualche evento sportivo per qualche giorno. Il discorso è molto impegnativo. Come dico e ripeto, sempre una struttura aperta minimo minimo costa dai 6-700 euro al giorno e tu avere una struttura del genere aperta senza gente è dei costi elevatissimi. Quindi sono necessari degli aiuti da parte del Governo? Sì, noi ci aspettiamo prima di tutto un aiuto, come ho scritto alla Federalberghi, di intervenire prima possibile sia sull'Imu, sulle bollette dell'Enel, sia sulle bollette dell'Atari, perché in fin di conti noi non produciamo immondizie, non produciamo niente, ma la paghiamo intera, perché va in base alle metrature. Le nostre strutture non sono strutture piccole, hanno delle bollette esorbitanti, abbiamo avuto dei piccoli aiuti a livello comunale, ma qui bisogna fare degli interventi veramente seri. Io da Fano fino a Gabicce le strutture che so siamo il 40% chiuse, le annuali, perché in questo momento veramente è da mettere le mani nei capelli.